Buongiorno a tutti, grazie per questa opportunità. Mi presento, sono Alessandra Nicolosi, sono CEO e co-founder di M2Test. M2Test lavora come SAS Software as a Service tramite il Best Test, il futuro della diagnosi delle fratture e la fragilità. Ogni anno 24 milioni solo in Italia sono le persone che soffrono di malattie metaboliche e ormonali e ogni tre secondi qualcuno si frattura a causa della fragilità ossea. Questo succede perché il 50% delle fratture potrebbero essere evitate. Infatti, gli attuali metodi di diagnosi vanno a valutare soltanto la densità dell'osso senza andare a valutare la struttura interna dell'osso. Pensiamo per esempio alla Torre Eiffel. La Torre Eiffel è fatta di ferro, quindi ha una certa densità, ed è costituita da delle travi. Se un giorno noi però decidiamo di cambiare l'ordine delle travi, la quantità di ferro utilizzata sarebbe la stessa, quindi la densità sarebbe la stessa, ma la Torre Eiffel crollerebbe proprio perché abbiamo cambiato l'ordine delle travi. Per questo motivo, anche quando si parla di fragilità ossea, la diagnosi è incompleta e questo porta dei costi molto grandi anche per tutto il sistema sanitario. Ecco perché è nato il Best Test, acronimo di Bone Elastic Structure Test. Best Test è un software che usa un approccio ingegneristico innovativo per simulare le sollecitazioni meccaniche su quella che può essere considerata una biopsia virtuale del paziente. Vi spiego un po' meglio come funziona. I nostri clienti, i nostri customers sono medici o cliniche private specialistiche e il dottore acquisisce delle radiografie a livello della mano non dominante, secondo un preciso protocollo, carica queste radiografie sulla nostra piattaforma, Best Test. Qui avviene un'analisi automatica con un algoritmo proprietario e dopo cinque minuti viene creato un referto con il grado di rischio di frattura del paziente che il medico può scaricare e consegnare direttamente al paziente. Rispetto ai nostri competitors, il Best Test può essere utilizzato anche nella prevenzione e nel monitoraggio delle alterazioni osse. Questo è molto importante per il medico perché grazie al monitoraggio può cambiare la terapia in corso d'opera. Come detto prima, ad oggi non esiste nessun altro metodo che va a fare un'analisi della struttura interna dell'osso perché gli attuali metodi, descritti come Dexascan o densitometria e gli ultrasuoni, vanno a fare comunque una misura soltanto della densità dell'osso. Questo è il nostro cronoprogramma per i prossimi mesi. Noi attualmente siamo già sul mercato, contiamo più di 12.000 pazienti che hanno effettuato l'esame e ad oggi il nostro obiettivo è la nazionalizzazione, quindi diventare capillari su tutto il territorio nazionale e diventare anche internazionali. Per questo prevediamo cinque fasi. La prima fase è l'avvio dello studio multicentrico per l'entrata delle linee guida ministeriali, quindi passare dal privato dove siamo attualmente al pubblico. La seconda fase è la prototipazione del Project X, un nuovo dispositivo medico. La terza fase è quella proprio dell'internalizzazione e dell'entrata nelle stuporosi secondarie, ovvero tutte quelle stuporosi causate da altre malattie o dall'uso di determinati farmaci. Quarta fase è l'avvio dell'FDA, quindi dell'entrata nel mercato americano. E la quinta fase è appunto lo scale up. I costi per le varie fasi sono qua descritti e riguardano appunto l'avvio del clinical trial, le assunzioni, infatti prevediamo assunzioni importanti nei prossimi mesi, il go to market, quindi tutte le spese di marketing, l'aggiornamento della piattaforma cloud, lavorando come SaaS per noi è molto importante, non ci sono costi di produzione fino a quando non inizieremo la prototipazione del Project X, ma comunque ci sono dei costi di software e di server locali, ovviamente, la produzione del Project X che però partirà dal prossimo anno, e infine le spese per andare al estero. Grazie per l'attenzione. C'è una domanda per Alessandra? Una domanda Alessandra veloce. Ci spieghi da dove guadagni bene? Certo, lavoriamo come SaaS, quindi come SaaS vuol dire, l'acronimo SaaS vuol dire software as a service, quindi noi vendiamo un servizio. Lo vendiamo secondo due modalità. La prima è il subscription plan, quindi semplicemente vendiamo dei pacchetti. Più grande il pacchetto, più ovviamente la singola analisi all'interno. Scusa, chi paga il pacchetto? I medici. I nostri clienti sono medici e cliniche polispecialistiche private attualmente, in un futuro, ed è l'obiettivo di quest'anno, è quello di entrare nelle linee ministeriali. Quindi noi vendiamo subscription plan oppure giornate di screening. Ok. Ci sono domande qui in sala? Sì. Ci sono domande online? Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi.